allora questa mattina anzi questa settimana iniziamo il penultimo macro argomento del corso che è quello sui grafi l'ultimo sarà quello sulle simulazioni grafiche di cui già ovviamente molte cose sapete quindi facciamo solamente un rapido refresh rispetto a quanto avete già visto nel corso di ricerca operativa ma soprattutto poi passeremo alla parte algoritmica per capire quali tipi di problemi si possono modellare e risolvere attraverso questa rappresentazione per noi un grafo non è un oggetto matematico è una struttura dati è una struttura dati che ci serve a rappresentare così come una tabella di hash una mappa sono strutture dati che ci servono in alcune situazioni in cui il problema si presta a essere rappresentato in quel modo attraverso essenzialmente degli elementi e delle relazioni tra questi elementi poi ovviamente andremo a pescare dall'interno dei grafici ciò che ci serve perché magari alcuni sottoproblemi sono già noti sono già risolti e possiamo usare degli algoritmi già fatti per poterli utilizzare un pochino il punto di vista che avremo sui grafi io come dicevo faccio solamente un refresh rapido sulle definizioni più che altro che useremo subito dopo per poi passare a vedere la libreria che useremo per manipolare i grafi perché ovviamente non ce li andiamo a implementare a mano anche se potremmo ma non sarebbe intelligente visto che ci sono fior fior di librerie che hanno già implementato molto di ciò che ci serve e quindi noi ci concentriamo sull'uso di queste funzioni per gli scopi delle nostre applicazioni dei nostri problemi quindi useremo una di queste librerie nel resto del corso allora solo per appunto riportare alla memoria rinfrescare un pochino i termini principali noi sappiamo che un grafo è un insieme composto da vertici e archi dove i vertici sono essenzialmente degli elementi che ci immaginiamo un po' puntiformi anche se noi in java li caricheremo di informazioni non saranno più puntini neri anonimi e questi vertici sono collegati tra di loro possono essere collegati tra di loro dei cosiddetti vertici o archi scusate archi non vertici che in inglese prendono il nome di edge oppure arc intercambiabilmente perché poi a seconda del problema che si affronta si usa una terminologia piuttosto che l'altra si possono chiamare vertici o nodi i singoli vertici del grafo vabbè i grafi essenzialmente sono molto diffusi cioè come strumenti di modellazione in molte tipologie di problemi quindi chiariamoci solo su una confusione terminologica che vogliamo evitare perché la parola graph può voler dire tre cose diverse può voler dire un grafico di funzione in realtà la parola inglese più corretta sarebbe un plot, function plot oppure potrebbe voler dire l'oggetto matematico, il grafo che noi vogliamo studiare oppure a volte grafo viene usato anche, o grafico in italiano viene usato per i grafici a barre, grafici a torta eccetera eccetera quindi grafici diciamo così di Excel ovviamente a noi interessa l'oggetto in alto destra che in italiano si chiama grafo, non grafico in nessuno dei due casi ha senso di chiamarlo grafico vabbè non andiamo a fare la storia di chi ha inventato la teoria dei grafi e perché ma ricordiamo solo brevemente che quello di grafo è un concetto abbastanza ampio che poi si articola in varie sottotipologie allora tutti i grafi hanno una serie di vertici e una serie di archi che collegano i vertici le caratteristiche di questi archi soprattutto creano una famiglia di varie tipologie di grafi ad esempio quelli che prendono il nome di grafi semplici e infattivamente sono i più semplici sono grafi, vedete che ci sono dei vertici, ci sono degli archi in cui c'è il vincolo che tra ogni coppia di vertici o c'è un arco o non c'è ad esempio tra questo vertice e quest'altro vertice c'è un arco tra questo vertice e quest'altro vertice non c'è un arco è l'unica informazione che abbiamo cioè quali sono le coppie di vertici tra cui esiste un arco non è possibile avere come invece succede nella figura di destra che invece prende il nome di multigrafo due archi diversi che collegano la stessa coppia di vertici ovviamente anche in un grafo semplice un vertice può essere collegato a molti altri vertici attraverso molti diversi archi ma la cosa strana del multigrafo è che lo stesso vertice attraverso due archi diversi è collegato allo stesso vertice d'arrivo dipende qual è quello più giusto dipende da ciò che vogliamo fare se immaginiamo, è facile immaginarsi questi grafi come una mappa stradale una mappa di una metropolitana o degli autobus o dei tram dove i punti sono le stazioni e gli archi sono i tragitti allora per andare da un punto a un altro io posso dire semplicemente collegamento C oppure se voglio rappresentare il fatto che questo collegamento può essere fatto con una linea oppure con un'altra linea di tram sono due linee diverse che potrei prendere se mi interessa rappresentare questa differenza di informazione non solo che collegamento c'è ma anche che ce n'è più di uno con caratteristiche diverse allora in questo caso mi serve un multigrafo perché due vertici so che sono connessi ma so che sono connessi in più di un modo l'altra stranezza che possono avere o non avere i grafi sono i cosiddetti cicli non usiamo il termine ciclo anche se sarebbe la traduzione di loop in italiano usiamo il termine cappio cappio come quello per impiccarsi o l'occhiello diciamo così come quello per cucire ma che rappresentano un arco che parte ed arriva sullo stesso vertice molto spesso non ci interessano queste cose questo tipo di informazioni però in alcuni casi possono interessare quindi bisogna distinguere di fatto abbiamo questi quattro casi in un grafo è possibile avere degli archi multipli tra due vertici? sì o no? e in quel grafo è possibile o no? sono ammessi o no i cappi? sì o no? e abbiamo quattro casistiche diverse grafo semplice non è messo né il cappio né l'arco multiplo il cosiddetto pseudografo che invece ammette i loop il multigrafo che ammette gli archi multipli ma non i loop e poi vedremo nella libreria c'è una quarta tipologia di grafo che invece ammette sia gli archi doppi che i loop non ha un nome matematicamente parlando poi un'altra caratteristica degli archi è se c'è informazione associata agli archi stessi quindi normalmente nelle figure precedenti l'arco o c'è o non c'è quindi di per sé non porta informazione l'unica informazione che porta è la sua presenza o assenza mentre invece per modellare i problemi reali possiamo caricare questi grafi di informazione allora il primo tipo di informazione la più semplice è l'orientamento il verso cioè dire che il nodo A e il nodo B sono collegati da un arco può richiedere di dire se l'arco va da A a B oppure da B ad A allora in questo caso parleremo di grafo orientato in cui ogni arco ha un vertice di partenza e un vertice di arrivo questo vuol dire che se io ho l'arco che va da A a B il fatto che esista o non esista l'arco che va da B ad A è indipendente cioè l'arco che va da A a B e l'arco che va da B ad A sono due archi separati indipendenti il fatto che esistono entrambi non ne fa un multigrafo no? diventerebbe un multigrafo se avessimo due archi che vanno entrambi da A a B ma l'arco A B e l'arco B A sono due colori indipendenti che possono vivere tranquillamente in un grafo semplice in un multiplo come ad esempio qua abbiamo degli archi un grafo orientato diretto in cui ho un arco che va e un arco che torna qui per ragioni di disegno sono semplicemente stati disegnati con un arco solo e due frecce ma sono concettualmente due oggetti separati l'altra cosa che possiamo con cui possiamo arricchire essenzialmente il grafo è etichettare ciascun arco con un numero che chiameremo peso quindi gli archi non sono più tutti uguali ma hanno un peso diverso se pensiamo a una rete di trasporti questo peso potrebbe essere il costo di andare al punto A al punto B o il tempo necessario per compiere quel tracitto e ci dà un'idea appunto il fatto che gli archi non sono tutti uguali ma sono possiedono sono etichettati come si dice da un valore che normalmente è un numero reale positivo normalmente poi dipende dai casi se andiamo avanti su questa idea di etichettare con dei valori parti del grafo si apre diciamo un metà di possibilità cioè possiamo decidere di etichettare gli archi come abbiamo fatto prima che poi siano diretti o non diretti multi o non multi sono tutte combinazioni possibili oppure etichettare i vertici è un pochino più raro però si può anche dare un peso un valore al vertice e non all'arco dipende ovviamente da che cosa vogliamo rappresentare per noi anzi vedremo tra breve che il vertice per noi sarà un oggetto Java che ha tutte le sue proprietà quindi non è solamente un numerino oppure si possono etichettare vuoi i vertici vuoi gli archi vuoi entrambi attraverso delle categorie non necessariamente numeriche cioè i vertici del gruppo A gruppo B gruppo C gruppo D no? e si dice che queste categorie essenzialmente parlando si attribuiscono si 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 è un grafo colorato nei vertici è un grafo in cui esistono un certo insieme di gruppi di categorie chiamiamoli di colori e ciascun vertice appartiene a uno di questi colori a una di queste categorie pensate che ne so un grafo in cui i nodi siano le persone e il colore è maschio femmine hai due tipologie diverse di nodi oppure gli archi possono essere colorati in modi diversi quindi appartenenti a gruppi diversi perché si usa questo termine colori anziché categorie anziché classe anziché altri termini più astratti ma perché questa esigenza è nata storicamente nel problema di colorare le cartine geografiche no? c'è un problema matematico che ha che ha diciamo così che è resistito per più di un secolo ai matematici data una cartina geografica qual è il numero minimo di colori che mi serve per disegnare per colorare la cartina ovviamente facendo sì che stati adiacenti stati confinanti abbiano colori diversi perché altrimenti ci si confonde no? e ci hanno lavorato diciamo per un secolo per riuscire a dimostrarlo che è 4 questo numero minimo e quindi da allora tutti questi grafi che hanno usato per riuscire a dimostrare questo teorema hanno preso poi i nomi di grafi colorati noi ci portiamo ancora avanti questo concetto di colore dal punto di vista informatico non ci cambia molto semplicemente abbiamo un'informazione che può essere un numero reale o che può essere un'etichetta un'enumerazione un intero una stringhetta che memorizziamo all'interno dei vertici o all'interno degli archi quindi un pochino più formalmente noi definiamo un grafo attraverso due insiemi quindi un grafo lo chiamiamo G è una coppia di due insiemi V ed E dove V è l'insieme di vertici ed E è l'insieme di archi ok? quindi matematicamente abbiamo due insiemi e lo vedremo poi anche nella libreria useremo dei set per rappresentare i vertici per rappresentare gli archi ogni arco che cos'è a sua volta? è una coppia di vertici quindi matematicamente è un sotto insieme del prodotto cartesiano dell'insieme di vertici per se stesso quindi una coppia di vertici poi come viene definito questo sotto insieme ci dà la variabilità di vari tipi di grafi cioè se questo sotto insieme V per V comprende anche la diagonale avrò dei loop se invece non voglio i loop dovrò escludere da questo prodotto cartesiano gli elementi sulla diagonale cioè l'elemento preso con se stesso se questo coppia di valori per come l'ho definita così è una coppia orientata cioè l'arco che va da 3 a 4 e l'arco che va da 4 a 3 sono due elementi diversi di questo spazio cartesiano V per V e quindi in qualche modo questa definizione mi rappresenta in modo più naturale un grafo orientato dove un arco è una coppia di vertici ma il primo vertice e il secondo non sono intercambiabili se invece volessi rappresentare infatti nella figurina l'ho disegnato come grafo orientato se lo dovessi rappresentare come grafo non orientato dovrei fare in modo che questo sotto insieme sia sempre simile simmetrico cioè ogni volta che c'è l'arco da 2 a 3 ci sia anche quello da 3 a 2 in modo da rendere interscambiabili la presenza o meno dell'arco nel momento in cui si dovesse scambiare il primo o il secondo elemento della coppia vabbè qui sono disegnati così lo possiamo rappresentare se vogliessimo adottare la definizione diciamo che questo arco è un grafo orientato questo è un insieme di vertici questo è un insieme di archi quindi l'altra notazione insieme alla parentesi di grafa e ogni arco è una coppia ordinata di numeri di vertici quindi se i vertici sono numeri qua dentro ci sono coppie di numeri se i vertici sono string abcd qui dentro ci sono coppie di string abcd quindi abituiamoci diciamo così a visualizzare il grafo contemporaneamente sia in modo grafico sia in modo insiemistico e la stessa cosa si può fare col grafo non orientato dove appunto l'unica avvertenza che facevo prima è che l'insieme degli archi a questo punto è fatto di coppie non ordinate di valori graficamente lo rappresentiamo senza le frecce insiemisticamente io l'ho rappresentato non con la coppia 1-2 ma con l'insieme che contiene il numero 1 e il numero 2 l'unica differenza se torno indietro di due slide qua do delle parentesi tonde chiaramente è una coppia ordinata chiudo le parentesi di graffe che rappresentano un insiemino con due numeri quindi insiemisticamente l'insieme 1-2 e l'insieme 2-1 in realtà sono lo stesso insieme non c'è differenza vi rappresentando come un insieme io perdo l'informazione sull'ordine quindi questa è l'unica se vogliamo piccola differenza di rappresentazione tra questi due mondi come inciso io non a caso ho preso nel primo grafo un grafo con un cappio e nel secondo caso un grafo senza nessun cappio perché sui grafi non orientati credo di non aver mai incontrato un caso in cui fosse utile di avere dei cappi su un grafo non orientato mentre su un grafo orientato può invece essere utile a volte quindi per questo vabbè questi sono grafi sul mondo dei grafici ci sono una valanga di definizioni di criteri di casi diamo solo alcuni termini proprio come dicevo una carrellata sulla terminologia in questa prima mezz'ora un po' noiosa però per rinfrescarci i termini allora ogni vertice può avere un numero di archi variabile incidenti ad esso incidente è il verbo che si usa per rappresentare la relazione tra il vertice e l'arco quindi l'arco incide su un vertice e su un certo vertice ci sono incidenti degli archi il numero di archi che incidono su un determinato vertice viene detto il grado di quel vertice quindi questo vertice è 4 ha un grado 4 perché ci sono 1, 2, 3, 4 archi che incidono su di esso quest'altro nodo invece ha grado solamente 3 in un grafo orientato il grado si può spezzare andando a considerare separatamente gli archi uscenti e gli archi entranti sul vertice quindi parliamo di grado in uscita out degree o di grado in ingresso in degree su un vertice come il numero di archi che escono a quel vertice rispettivamente il numero di vertici che entrano su quel vertice il grado se non specificare nulla è la somma dei due quindi è il numero totale di vertici incidenti se un vertice capita che abbia grado 0 significa che è isolato cioè non è collegato a nessuno questo per il singolo vertice come questo 4 poveretto là nell'angolino nessuno gli parla è a grado 0 su un grafo orientato dicevamo si distingue l'indigree cioè il numero di archi che entrano dall'out degree quindi nel vertice 5 ha un indigree un grado in ingresso pari a 2 perché c'è l'arco che arriva da 4 e l'arco che arriva da 2 e un grado in uscita pari a 1 cioè quello che da 5 porta a 4 qui sul vertice 2 che ha un arco di tipo cappio a seconda del libro che prendete essenzialmente o del problema che cercate di risolvere il cappio viene contato oppure no nel grado quindi alcuni dicono che questo l'indigree è uno solo perché questo ingresso qui non conta perché in realtà usciva da lui stesso e invece altri invece lo contano dipende dai casi quindi la definizione qua non è precisissima cioè non è univoca essenzialmente questo per quanto riguarda i singoli vertici poi un grafo ci serve perché possiamo camminarlo possiamo spostarci da un vertice a un altro di solito i cammini che si fanno sui vertici sono cammini che attraversano gli archi esistenti non è che posso saltare da un vertice a un altro vertice se non c'è un arco che li collega e quindi è possibile definire questi appunto cammini path sui grafi definiti come una sequenza di vertici che io attraverso in un certo ordine garantendo che tra ciascuna coppia di vertici adiacenti da 1 a 2 da 2 a 3 da 3 a 4 e così via ci sia esista un arco che li colleghi quindi matematicamente la coppia fatta da due vertici adiacenti nella sequenza deve appartenere all'insieme degli archi del grafo il cammino si può definire come una sequenza di vertici soprattutto su un grafo semplice se il grafo fosse un multigrafo sarebbe più corretto definire un cammino come una sequenza di archi che attraverso perché se io dico la sequenza di vertici è A, B, C e questo è un grafo semplice dire A, B identifica univocamente l'arco che collega A e B se questo fosse un multigrafo e tra A e B ci sono tre archi diversi allora posso aver bisogno di specificare qual è l'arco che ho usato soprattutto se fossero pesati questi archi qual è l'arco che ho usato per passare ad A, B quindi in quel caso la definizione in un multigrafo un cammino su un multigrafo si complica perché si parla di archi di sequenza di archi non sequenza di vertici ma basta solo girare un pochino la definizione la lunghezza di un cammino è il numero di archi la definita così quindi un cammino di lunghezza due è un cammino che ha due archi e quindi tocca tre vertici quindi adesso dobbiamo solo fare attenzione a questo più o meno uno che viaggia quindi ovviamente il numero di archi che attraverso è uguale al numero di vertici che tocco meno uno se prendiamo fisso un punto un vertice di partenza V con A e costruiamo tutti i cammini possibili che partono in V con A e attraversano in tutti i modi possibili il grafo possiamo trovare un insieme di vertici chiamati V con B in questo caso se esiste almeno un cammino tra V A e V B possiamo dire che B è raggiungibile da A quindi abbiamo una definizione ricorsiva prima noi dicevamo sapevamo dire se due vertici erano adiacenti cioè erano collegati da un vertice direttamente uno con due adesso ci chiediamo non solamente se sono adiacenti o meno cioè se ci posso arrivare in un passo solo ma se ci posso arrivare eventualmente facendo più passi questo lo chiamo cammino e parlo di raggiungibilità quindi facciamo attenzione quando parliamo di un vertice adiacente rispetto a un vertice raggiungibile adiacente è una cosa che vedo localmente in i miei vicini diretti raggiungibile significa raggiungibile attraverso una catena di adiacenze vabbè qui ci sono un po' di esempi un caso particolare di cammini sono i cammini chiusi in cui il punto d'arrivo è uguale al punto di partenza possono esserci possono non esserci in un grafo se il grafo rappresenta un albero genealogico ovviamente non ha cammini chiusi perché nessuno può essere il trisauro di se stesso ma no c'è solo una direzione se invece il grafo rappresenta un'informazione topografica delle strade sarà pieno di cammini chiusi quindi esistono grafi che hanno al proprio interno dei cicli cioè cammini chiusi altri grafi no e quindi si è questa proprietà di essere ciclico oppure ciclico di un grafo un grafo ciclico è un grafo che contiene sull'interno almeno un ciclo e un ciclo se ci pensiamo ci dà almeno due modi diversi per raggiungere ogni coppia di vertici che sta su quel cammino se posso fare un giro di qua o se posso fare il giro contrario quindi in questo caso questo grafo contiene un ciclo chiuso cioè il cammino 1, 2, 5, 1 perché il vertice di 1 viene contato due volte come vertice di partenza e vertice di arrivo l'altra definizione ortogonale complementare a quella di ciclicità è quella di connessione che sempre ragiona sui cammini ok? quindi la ciclicità mi chiede dato un vertice posso fare un cammino che ritorna su se stesso senza contare i loop i cappi è una prima domanda la seconda domanda che mi faccio è dato un vertice posso raggiungere qualunque altro vertice del grafo con dei cammini alto diverso da me ma tutti ma ognuno può essere raggiunto allora se sì se dato un vertice posso raggiungere qualunque altro vertice allora dico che il grafo è connesso connesso questo vuol dire che da qualunque vertice posso raggiungere qualunque altro vertice con un cammino di lunghezza arbitraria se pensiamo a una cartina geografica le strade costituiscono gli archi di un grafo connesso escludendo le isole non c'è una strada manca ancora il ponte di Messina quindi non ci sono delle strade che collegano due punti che si trovano su due isole diverse ecco il concetto di isola in un grafo viene chiamato componente connessa cioè se un grafo non è connesso vuol dire che esistono almeno due punti due vertici tra i quali non esiste alcun cammino allora vorrà dire che esisterà un insieme di vertici che sono raggiungibili dal primo un altro insieme di vertici che sono raggiungibili dal secondo e tra nessuno dei primi nessuno dei secondi ci sarà mai una connessione perché se no esisterebbe un cammino che passa da lì e li collega allora in questo caso abbiamo un grafo che si partiziona si divide in tante componenti connesse cioè ciascuna componente al suo interno è connessa ma globalmente il grafo non è connesso perché ci sono queste varie componenti che non si parlano tra di loro essenzialmente come questo qui del nostro esempio era un grafo un graffetto di sei vertici che aveva tre componenti connesse all'interno del componente connessa posso andare dove voglio ma da un qualunque vertice di una componente connessa a un qualunque vertice di un'altra componente connessa sono sicuro che non ci sia un vertice questo è facile il concetto di connessione è facile da vedere in un grafo non orientato diventa un pochino più complicato quando parliamo di un grafo orientato perché io potrei andare da A a B ma potrebbe non esistere la strada che da B torna ad A quindi devo verificare la raggiungibilità nei due sensi in questo caso si parla di grafo fortemente connesso cambia semplicemente il nome in cui bisogna verificare non solo che da 1 posso raggiungere tutti i vertici ma una volta che ho raggiunto devo verificare che da 1 arrivo a 4 devo verificare che ci sia la strada inversa in questo caso c'è direttamente da 1 vado a 2 ma da 2 posso tornare a 1 sì passando da 4 quindi ogni volta che trovo un cammino per l'andata devo verificare se esiste un cammino per il ritorno ovviamente questo cammino può passare da una strada completamente diversa quindi anche lì un grafo stradale cittadino con i sensi unici normalmente è un grafo fortemente connesso perché non mi trovo mai in un punto da cui non posso più tornare a casa se è fatto bene se la strada è fatta bene mentre in quest'altro caso il grafo non è fortemente connesso perché pur essendo possibile andare da 1 a 2 non è possibile tornare da 2 a 1 oppure da 4 a 1 quindi in un grafo orientato devo fare il doppio delle verifiche essenzialmente rispetto a un grafo semplice vabbè sul grafo completo una definizione che non serve a niente ci serve solo per guardare questo numerino qua cioè qual è il numero massimo di archi che posso avere in un grafo vabbè visto che gli archi sono insieme in un prodotto cartesiano vertice per vertice saranno pari al massimo al numero dei vertici al quadrato oppure n per n-1 se escludiamo i loop escludiamo i k poi dipende c'è un diviso 2 se il grafo non è orientato perché la coppia 1-2 e la coppia 2-1 si contano una volta sola quindi di questo quadrato di vertici per vertice uso solamente la metà superiore cioè una matrice triangolare anziché completa ma questo n quadro ci serve per definire la densità di un grafo e questa poi ci torna poi nella complessità degli algoritmi la densità di un grafo è il numero di archi che effettivamente ci sono rispetto al numero massimo totale di archi che ci potrebbero essere quindi fratto n quadro essenzialmente io ho un grafo con 100 nodi e 5000 archi è un grafo molto denso o poco denso? beh devo fare 5000 diviso 100 alla seconda e mi accorgo che 5 su 100 alla seconda sono 10.000 ha una densità del 50% in questo caso ecco torniamo alla ciclicità c'è una definizione un po' strana la definizione di albero noi parlavamo di albero genealogico prima quindi l'albero è un concetto abbastanza l'albero delle cartelle di un computer eccetera sono concetti che abbiamo abbastanza intuitivi questa definizione dice che un albero è un grafo non orientato connesso a ciclico cioè tutti questi grafi qua sotto sono tutti alberi anzi sono tutti possibili alberi fino ai 6 nodi e vediamo che ciascuno di questi è un grafo connesso a ciclico non a cicli e la cosa che più mi stupisce è che non è orientato cioè in un albero pensando all'albero genealogico ho un verso di percorrenza l'albero come pianta come vegetale va dalle radici verso il tronco quindi ogni ramo so in che direzione sta crescendo la definizione che ne danno qua invece è di un grafo non orientato perché? ma perché essenzialmente quello che mi interessa è qualche proprietà a un albero abbiamo detto che è connesso ma a ciclico se è connesso vuol dire che se sono in un qualunque punto attraversando gli archi posso raggiungere qualsiasi altro punto qualunque altro punto non ho problemi di orientamento degli archi perché ho detto che questo grafo deve essere non orientato quindi posso andare o tornare nella direzione che voglio quindi è connesso posso andare ovunque ma è anche a ciclico il fatto che non abbia dei cicli mi dice che io se devo andare da un punto a un altro punto c'è una strada sola possibile c'è l'esistenza e l'unicità di un percorso tra due punti se io avessi un ciclo come questo per andare da questo punto a quest'altro punto potrei passare da sopra oppure passare da sotto per il fatto che ci sia un ciclo è possibile andare da ciclo di tre vertici uno, due, tre vuol dire che è possibile andare da uno, tre direttamente oppure passando da due ogni volta che c'è un ciclo significa che i cammini possono essere più di uno io non so poi quale dei due sia più corto più conveniente cammino perché dipende da che cosa implica attraversare un arco piuttosto che un altro se sono pesati quindi se io prendo un albero e aggiungo un qualsiasi arco creo un ciclo e quindi il grafo continua a rimanere connesso cioè posso andare dove voglio ma non più in modo univoco se invece cancello un qualunque arco il grafo si disconnette adesso qui non ho cancellato i due ho esagerato ma bastava cancellare uno qualunque degli archi e troveremo che il grafo si disconnette non è più connesso si separa in due componenti connesse separate perché se prima avevo un modo solo per andare tra due vertici e io tolgo quell'unico modo che avevo ovviamente non ho più nessun modo per collegare due vertici quindi gli alberi sono simpatici perché sono il punto di separazione tra il mondo dei grafi ciclici e il mondo dei grafi non connessi sono l'unico punto in mezzo che è sia aciclico quindi non ha troppi vertici e quindi non ha nessun ciclo e non ne ha troppi pochi quindi non si disconnette quindi comincia il primo punto in cui il grafo comincia a connettersi e queste sue proprietà fanno sì che io possa poi scegliere in un albero a piacere un nodo che chiamo radice e a seconda di dove scelgo la radice in qualche modo l'albero si orienta lo posso vedere anche come un grafo orientato cioè se io scelgo questo è lo stesso grafo di prima dico che questo nodo qua è la radice allora in qualche modo ho dato un orientamento agli archi implicito dalla radice verso i vertici più lontani della radice che è il modo in cui siamo abituati a vedere le strutture gerarchiche ad albero ho il punto più alto e poi da lì si dipartono di nuovo continua a essere un albero quindi continua a essere connesso quindi dalla radice posso raggiungere tutti e aciclico quindi lo posso fare in un modo solo ma liberamente posso scegliere un'altra radice e questo grafo che inizialmente non era orientato può assumere un orientamento gli archi ovviamente potranno essere orientati in modo diverso ma continua a avere sempre le stesse proprietà quindi la cosa un po' curiosa è il fatto che la radice si può scegliere a piacere se un albero è un vero albero e poi tutto il resto lo tiro su la radice e gli altri tutti gli archi tutti i rami si orientano nel modo più opportuno ad esempio in questo caso spostando la radice da questo punto a quest'altro l'unica conseguenza ce l'hanno questi due archi questo qui e questo qua che ovviamente devono girarsi a contrario per tutti gli altri non fa differenza spostando la radice vedete che tutti gli altri archi mantengono la stessa orientamento poi c'è il mondo dei grafi pesati vabbè sono grafi dicevamo già prima in cui a ciascun arco viene associato un numero normalmente parliamo di numeri reali quasi sempre positivi ok queste sono le definizioni principali teniamo la mente e poi le andiamo a ripescare quando ci serviranno ma noi come facciamo a rappresentare dal punto di vista algoritmico dei grafi se li volessimo utilizzare se li volessimo usare se adesso ad esempio volessimo fare un grafo no delle persone di questo corso oppure le persone in quest'aula che si erano già andati a mangiare una volta insieme a prendere un aperitivo insieme quindi prende due persone ti voleva già prendere un aperitivo insieme sì no e questo poi è un grafo inutile come tante altre cose inutili no però come lo rappresento eh matematicamente mi dice hai due set un set di vertici un set di archi allora io comincerei a farmi dei set di oggetti eccetera eccetera allora per fortuna non me lo devo fare da zero e c'è una libreria che si chiama ci sono 4-5 librerie essenzialmente esistenti che trattano questo problema quello che abbiamo scelto di usare si chiama jgraph t jgraph t e non è jgraph perché c'è un'altra cosa che si chiama jgraph che non c'entra niente che serve per fare dei grafici dei charts dei grafici a bar eccetera e quindi impariamo a usare questa libreria quindi come un grafo viene visto da questa libreria e quindi come la useremo noi questa libreria la trovate a questo sito che è indicato quindi jgraph t punto org è arrivata la versione 1.1 ecco l'unica cosa che vi devo dire a questo punto è che la versione 1 dalle versione 1 in avanti sono leggermente diverse ci sono alcune piccole differenze rispetto alla versione 0.9 che era disponibile l'anno scorso quindi se vedete dei progetti dell'anno scorso e li caricate in Eclipse mettendoci ovviamente la versione 1.1 della libreria vi dice che alcune classi alcune interfacce sono deprecate perché le hanno un po' modificate quindi dal warning di interfaccia deprecata perché l'anno scorso li usavamo e poi hanno deciso hanno riorganizzato alcune interfacce soprattutto alcune interfacce e alcuni package anche all'interno della libreria quindi su progetti nuovi che facciamo non c'è nessun problema se andate a vedere un esercizio o una soluzione di esercizio degli anni precedenti o usate la versione vecchia della libreria 0.9 ma non è mai una buona idea oppure ci saranno a sistemare due cosette allora come è organizzata questa libreria? tutte le informazioni che ci servono noi abbiamo bisogno di due link da questa pagina la link per scaricarcelo scaricare la libreria e un link per capire che cos'è la documentazione allora per scaricarlo si va qua jgraph t 1.1.0 windows o linux è uguale è un archivio che contiene dentro dei file vi faccio vedere cosa contiene questo è l'archivio contiene dentro una cartella jgraph t ovviamente dentro la quale avete source sono tutti i sorgenti della libreria se volete andare a vedere il sorgente di come è stata implementata oppure ciò che ci fa più comodo è lib la cartella lib che contiene già i jar compilati di vari pezzi della libreria quello che ci interessa di più è quello che si chiama core jgraph t core questa è la libreria che dobbiamo aggiungere i nostri progetti quindi dobbiamo astrarla da questo zip da questo archivio e aggiungere i nostri progetti per poter usare questi metodi le altre libreria io servono per importare e esportare grafi in vari formati di testo queste estensioni sono algoritmi ancora in test non ancora consolidati le demo sono dei programmini di prova ma non ci interessano non ci interessano non ci sono necessari quello che è necessario è questa parte jgraph t core e poi c'è tutta la cartella javadoc che contiene la documentazione quindi se voi la spandete e cliccate su index trovate tutta la documentazione della libreria in locale scaricata in locale oppure ve l'andate a vedere online qua javadoc files che è su jgraph t.org slash javadoc questa è una libreria molto completa molto approfondita delle classi di questa dei package ci sono parecchi package vedete qua e vabbè ovviamente parecchie classi tutto sotto la gerarchia org.jgraph t e cosa c'è qua dentro? vabbè cosa c'è qua dentro? allora vediamo la struttura principale di questa libreria allora questi sono i package principali il package principale è org.jgraph t che al suo interno contiene in particolare un'interfaccia che si chiama graph che è la mamma di tutti poi c'è un package che si chiama graph sotto org.jgraph t che contiene quella che sono chiamata qua l'implementazione di diversi grafi cioè perché c'è questa dualità? è vero perché perché il grafo è un concetto molto vasto dicevamo prima poi a me oggi serve un grafo orientato o non orientato pesato o non pesato un multigrafo o un grafo semplice allora ho un'interfaccia generica graph e poi ho tante implementazioni di grafi diversi uno per ciascuna combinazione variante di grafi che potrebbero servirvi e poi ho tutta una serie di package .alg che implementano vari tipi di algoritmi nei grafi quindi trovami il cammino più breve trovami il cammino lungo trovami una partizione dei vertici fammi la colorazione trovami un ciclo eccetera eccetera sono tutti algoritmi che sono all'interno di una serie di package alg ecco questa è un'altra differenza è una differenza rispetto alla versione 0.9 dove gli algoritmi erano messi un po' a caso invece qui hanno riorganizzato in package le classi e alcune classi sono state leggermente rinominate un caso particolare utile di grafi scusate di algoritmi sono gli algoritmi di attraversamento del grafo che hanno meritato un package tutto per loro attraversare un grafo significa partire da un vertice e trovare i vertici connessi non necessariamente i cammini cioè io so che un certo vertice è raggiungibile dal primo però non mi serve non mi prendo la briga di calcolare di salvare numerare qual è il cammino che ho usato so che è raggiungibile punto e basta mi serve per sapere se il grafo è connesso se non è connesso eccetera e sono i primi algoritmi che vedremo attraversamento oppure visita di un grafo sono due sinonimi nel campo di grafi attraversare o visitare cioè dato un vertice e trovare tutti gli altri vertici raggiungibili da questo dal punto di vista java esiste questa interfaccia che si chiama graph dentro il package principale che è un'interfaccia generica parametrizzata quindi ogni grafo così come facciamo una mappa e dobbiamo definire quando definiamo una mappa il tipo della chiave e il tipo del valore come parametri generics è la stessa cosa sul grafo ogni grafo è parametrizzato da due generics uno è il vertice e l'altro è l'arco cioè quale oggetto java rappresenta un vertice e quale oggetto java rappresenta un arco sul vertice siamo totalmente liberi cioè noi possiamo implementare un qualunque tipo di vertice cioè un grafo che abbia come vertice un qualunque tipo di classe quindi voglio fare avrò un grafo in cui i vertici siano gli studenti di una classe lo posso fare e quindi avrò un grafo di studente come generico un grafo in cui i vertici siano le fermate dell'autobus avrò un grafo di fermata in cui siano città avrò un grafo in cui v è l'oggetto città e così via quindi scelgo io l'oggetto da usare a lui non interessa e quindi dentro questo oggetto ci posso memorizzare ovviamente tutto ciò che voglio quindi per quello il concetto di grafo colorato per noi ci sta stretto perché poi dentro il grafo non abbiamo semplicemente solo un colore dentro un vertice abbiamo tutto ciò che vogliamo è un oggetto java qualunque gli archi allora noi abbiamo già due tipi di archi predefiniti dalla libreria che si chiamano default edge e default weighted edge quindi sono un grafo semplice non pesato un grafo semplice pesato ovviamente il weighted serve per i grafi pesati e quindi l'arco deve avere una variabilina in cui memorizzare il peso e quindi ne useremo quasi sempre o l'uno o l'altro di queste classi arco come quindi secondo parametro del generics ma volendo possiamo definire uno noi a piacere conviene conviene fare una sottoclasse di questi la libreria non ce lo impone non ce lo obbliga ma visto che questi qui hanno due o tre metodini privati quindi noi non li possiamo usare ma la libreria internamente li usa per non dover implementare tutto la cosa più comoda se ci serve un tipo di arco personalizzato è fare una sottoclasse di uno di questi due quindi extend estendiamo o questo o l'altro quei requisiti ci sono visto che internamente dicevamo un grafo è rappresentato da due insiemi un insieme di vertici e un insieme di archi questi insiemi devono essere insiemi che funzionano bene in java e quindi un oggetto per poter essere messo dentro un set deve avere un hash code un equals funzionanti quindi requisito forte ovviamente perché dentro è come se noi facessimo una nostra mappa un hash set normalmente ci serve l'hscode che funzioni quindi dobbiamo fare attenzione che l'oggetto vertice e l'oggetto arco se usiamo quelli default con oggetti archi non ce ne dobbiamo preoccupare ma soprattutto l'oggetto vertice se lo vogliamo inserire in un grafo dobbiamo definire bene hash code equals come in qualunque oggetto che vogliamo inserire in una collection nel caso dell'arco di solito non ci pensiamo se dovessimo ridefinire l'arco come sottoclasse quasi sempre lo faremmo per aggiungere altre informazioni che però non entrano fa parte dell'equals sono informazioni aggiuntive che non l'identità dell'arco sono i vertici che collega quindi quasi mai dovremmo ridefinire la hash code dell'equals rispetto a quelli che sono già implementati dalla classe di default quindi il vero lavoro noi lo facciamo sul vertice gli archi sono quasi già fatti e questa interfaccia graph che cosa prescrive? prescrive una serie di metodi che servono per manipolare un grafo quindi è una sorta di cugino più grande delle collection quindi così come nella collection ci sono i metodi per aggiungere cancellare e ricercare elementi la stessa cosa di un grafo dove abbiamo il metodo per aggiungere un vertice ad vertex un metodo per aggiungere un arco quindi passo l'oggetto vertice e lui lo aggiunge l'oggetto vertice tipo V generico persona città strada e lui lo aggiunge al grafo oppure ad edge aggiunge un arco prendendo un vertice di partenza e un vertice di arrivo crea l'oggetto arco e lo aggiunge al grafo oppure se l'oggetto arco me lo sono creato io per i fatti miei ma è molto raro posso usare la versione tra parametri oppure dato un arco posso impostare il peso set edge weight questi metodi qua diciamo il primo secondo e un po' il quarto il terzo è rarissimo usarlo sono quelli che ci servono per costruire un grafo da zero ci metto dentro i vertici una volta che ho i vertici ci metto gli archi una volta che l'ho costruito se voglio vederlo posso avere il vertex set quindi dammi il set di tutti i vertici che ti ho messo dentro o l'edge set dammi il set di tutti gli archi che fanno parte di questo grafo questa è un'interfaccia quindi tutte le classi grafo di vari tipi di grafiche che andremo a vedere implementano tutti questi metodi quindi si comportano tutti nello stesso modo poi possiamo interrogare questo grafo caro grafo tu contieni questo vertice un determinato vertice è o non è appartenente al grafo e qui vedete la scoda al lavoro è un contents dentro un set contiene un determinato arco contiene almeno un arco che collega questi due vertici dammi ecco get all edge sembra un po' strano ma pensatela nel caso di un multigrafo dati due vertici di partenza e di arrivo dammi l'insieme di tutti gli archi che li collegano in un grafo semplice sarà un insieme fatto normalmente o solo in un multigrafo invece potrà essere un set o insieme in ruoto se questi due archi non sono adiacenti oppure uno o più archi oppure se il grafo è semplice c'è la versione più semplice che si chiama get edge dati due vertici dammi l'arco che li collega quindi posso interrogare separatamente i vertici gli archi oppure posso andarmi a chiedere questo vertice a chi è collegato quali sono gli archi incidenti e dato l'arco posso capire qual è il vertice dall'altra parte e quindi dato un arco posso chiedermi in questo arco dove parte dove arriva get edge source quindi ti do un arco mi restituisci un vertice get edge target ti do un arco mi restituisci un vertice il vertice di inizio e il vertice di fine di quell'arco è tutto un po' doppio il lavoro viene fatto sia sui vertici sia sugli archi quindi per questo ci sono tanti metodi dammi il peso di un arco get edge weight dato un vertice dammi tutti gli archi entranti ho tutti gli archi uscenti get incoming edges outgoing edges dato un vertice dall'insieme degli archi oppure nel caso di un grafo non orientato edges of tutti gli archi che incidono su un determinato vertice quindi dato un arco se ho l'arco voglio trovare il vertice gli chiedo edge source edge target dove parte dove arriva quell'arco se da un vertice voglio trovare gli archi che sono incidenti edges of oppure incoming outgoing nel caso in cui mi interessa filtrarli per ordine poi parlavamo di grado in degree out degree e degree grado di ingresso grado di uscita grado totale di un determinato vertice è un numero intero e poi ci sono un po' di metodi che non vi commento che servono per cancellare archi o vertici ma è difficile la difficoltà è crearlo non tanto cancellarlo quindi non useremo quasi mai quindi tutti i grafi contengono questi metodi no? nulla di spettacolare bisogna solo un po' abituarsi a questa cosa qua che è l'arco è un set che fa riferimento si aggancia a due vertici no? no questo slide dovevo cancellarlo dentro e questa graf è una interfaccia dentro questa interfaccia questa interfaccia ha una serie di classi che la implementano queste classi sono tutte le varianti possibili dei grafi delle varie tipologie di grafi allora io ho provato a disegnarlo in un diagramma di questo genere dove queste qua sopra graf e graf è l'interfaccia graf che abbiamo appena visto e queste sono tutte le classi che la implementano nella libreria poi ce ne sono altre non le ho messe proprio tutte tutte ce ne sono altre che però sono derivate sono classiche che permettono di creare un grafo partendo da un altro questi sono tutti i tipi di grafi che possiamo creare qui l'interfaccia graf l'ho messa sia a sinistra che a destra perché altrimenti con le frecce non ci capivo più nulla allora vedete che ci sono dei grafi che diciamo simple graph simple weighted graph simple directed weighted graph directed weighted multi graph weighted pseudo graph eccetera eccetera allora come facciamo districarci in tutte queste classi per rispondere alla domanda qual è la classe che mi serve allora io l'ho disegnata così in questo ordine perché ne raggruppo ad esempio tutte queste classi sulla sinistra sono tutti grafi non orientati quelle sulla destra sono tutti grafi orientati quindi io ovviamente devo sapere che cosa mi serve nel mio problema se mi serve un grafo orientato guardo a destra se mi serve un grafo non orientato guardo a sinistra e quindi già ho buttato via metà delle classi mi concentro su quelle della tipologia che mi interessano poi la seconda domanda da farsi è il grafo è pesato o no? cioè gli archi hanno un peso come numero reale positivo oppure sono tutti indistinti allora le classi nelle due colonnine esterne sono tutti grafi non pesati le classi nelle due colonne centrali sono tutti grafi pesati quindi rispondiamo abbiamo risposto alla domanda il grafo è orientato o no? il grafo è pesato o no? e poi l'altra domanda è la molteplicità degli archi sui vari tipi di grafo che dicevamo prima ma è semplice ma è multi accetta il loop oppure no abbiamo quattro casi dicevamo un grafo semplice quindi no loop no archi multipli un multigrafo sia loop che alti multipli uno pseudografo loop ma non archi multipli e quello che non ha un nome l'ho chiamato non semplice che permette sia i loop sì ma gli archi multipli no quindi a seconda della che io voglia o meno i cicli e che io voglia o meno gli archi multipli scelgo uno di questi pianerottoli fine se andate a vedere intersecate le tre scelte i tre colori diversi e trovate esattamente una classe sola che è quella che vi serve vedete che qua a sinistra c'è un vuoto qua sotto perché ovviamente nei grafi non orientati come dicevo prima i loop non si usano praticamente mai infatti non c'è stato bisogno di creare una classe l'unica ambiguità che c'è è qua sono questi due simple directed graph che è un grafo semplice orientato non pesato vabbè poi c'è la sua versione pesata che è qua e poi come figlio c'è una classe è l'unico diciamo così elemento che rompe la simmetria di questa figura questa sottoclasse che si chiama directed acyclic graph grafo diretto acyclico quindi è una sottoclasse è una sottoclasse dei grafi orientati anche acyclici questa classe ha dei controlli in più se io so già a priori che il mio grafo orientato non deve avere dei cicli grazie non deve avere dei cicli allora posso definirlo non come un simple directed graph che è un qualunque arco qualunque grafo orientato ma come grafo acyclico questo mi impedisce nel senso che genera un'eccezione se io cercassi di aggiungere un arco che crea un ciclo può servire se sappiamo già che il mio grafo non deve avere dei cicli e quindi vogliamo evitare di fare noti i controlli e delegarli essenzialmente alla classe che implementa il grafo quindi abbiamo tutte queste classi che trattano in modo diverso gli archi essenzialmente orientato non orientato multiplo non multiplo eccetera i vertici li trattano tutte nello stesso modo perché queste domande che ci siamo fatti orientato pesato e multiplo sono tutte domande sugli archi quindi trattano in modo diverso gli archi e quindi implementeranno in un modo leggermente diverso questi metodi ad esempio ad edge che aggiunge un nuovo arco nel caso di un grafo semplice lo posso chiamare tra due vertici una volta se provo a richiamare una seconda volta tra gli stessi vertici il grafo il secondo arco non verrà aggiunto e quindi mi ritorna null se invece fosse un multigrafo e chiamo quella ad edge due volte tra gli stessi vertici ovviamente aggiunge più grafi ogni volta mi restituisce un oggetto e diverso quindi l'implementazione di questi metodi è leggermente diversa nei vari casi ma i metodi sono gli stessi ovviamente si devono comportare secondo le proprietà che deve avere quel tipo di grafo quindi in pratica per avere un programma che lavora su un grafo cosa facciamo vabbè importiamo la nostra libreria jgraph.t core nel nostro progetto decidiamo quale deve essere la classe che rappresenta il vertice allora degli esempi semplici può essere un integer può essere una string e ci mettiamo dentro degli esempi ma poi in realtà saranno magari che noi leggiamo dal database non c'è problema qualunque classe va bene purché abbia un escode è un equas funzionante definito il vertice devo decidere qual è il grafo quindi vado a analizzare questa mappa tridimensionale e scelgo qual è la classe grafo che voglio usare che mi serve sono tutte implementazioni di grafo e di conseguenza deciderò qual è l'arco il tipo di arco quindi per tutte le classi di grafi non pesati come arco e userò default edge per tutte le classi di grafi pesati come arco e come tipo di oggetto e userò default weighted edge poi ci sarebbe il terzo caro me lo devo implementare da me che stendo ma è talmente raro che non l'ho aggiunto in questa slide a questo punto tutte le informazioni che mi servono per poter creare l'oggetto grafo ad esempio supponiamo che abbiamo voluto abbiamo scelto la classe simple graph tra tutte quelle e quindi possiamo creare new simple graph dove al posto di v ci mettiamo la classe che abbiamo scelto al posto di e ci mettiamo default edge perché un simple graph non è pesato e quindi ci vuole un default edge e il risultato lo memorizziamo in una variabile graph che per comodità nostra potremmo definirla di tipo graph in generale non di tipo simple graph quasi sempre conviene sempre lo facciamo sempre così come disegniamo list uguale new array list quando creo l'oggetto devo dire qual è l'oggetto concreto ma quando dichiaro le variabili posso lavorare con l'interfaccia così se domani dovessi modificare il tipo di oggetto non devo più cambiare nulla visto che è un'interfaccia unica che li riaccoglie tutti questa è una differenza rispetto al passato fino alla versione precedente c'era e ci sono ancora ma sono deprecate una classe graph e tre sottoclassi che si chiamavano weighted graph directed graph e underrated graph e quindi i grafi concreti erano figli implementavano underrated oppure directed e quindi dovevi decidere questo perché poi avevano dei metodi diversi li hanno uniformati in un'unica classe graph e quindi si è semplificato tutto c'è poi una stranezza qua cioè il costruttore di gravi di tutte queste classi riceve un parametro ma cosa serve questo parametro? torniamo indietro di un secondo quando io chiamo ad vertex in un grafo sto facciamo vedere che sia una lista ho un oggetto l'aggiungo alla lista quindi l'oggetto me lo sono creato io add la lista si incorpora l'oggetto che ho creato io e gli ho messo dentro nessun problema add edge è diverso quando io voglio aggiungere un arco a questo set di archi che è il grafo che è all'interno del grafo non gli passo l'oggetto arco ma gli passo due vertici quindi l'oggetto arco se lo deve creare lui si deve creare un oggetto di tipo E e poi dire a questo oggetto di tipo E guarda la tua sorgente il tuo vertice di partenza è questo e il tuo vertice arriva a quest'altro quindi la new dell'oggetto E del grafo dell'arco dell'oggetto che rappresenta l'arco la deve fare la libreria JCRT non la facciamo noi quando aggiungo un arco non sto creando l'oggetto arco e aggiungendo il grafo sto dicendo al grafo creati un arco che insista tra questi due vertici che incida sul vertice di partenza e sul vertice di arriva e quindi lui internamente come fa a fare la new di un oggetto che non conosce perché lo deciderò io quell'oggetto non può fare la new E E è semplicemente un parametro generico se ci vuole una classe concreta allora per poterlo fare per poter funzionare essenzialmente io devo passare al costruttore del grafo l'informazione su qual è la classe dell'oggetto che rappresenta il grafo che rappresenta l'arco quindi E sarà il mio default edge o default weighted edge oppure la mia sottoclasse che ho definito per l'arco E E è il nome della classe punto class punto class fa parte della reflection in Java c'è una serie di metodi attributi in cui gli oggetti possono riflettere su se stessi interrogarsi dicendo ma di che classe sono io quali sono i miei metodi quali sono i miei parametri c'è tutta una serie di metodi in cui a run time potete andare a vedere le dichiarazioni degli oggetti con cui lavorate noi non la facciamo ma class mi dà un oggetto che descrive qual è la classe di quell'altro oggetto quindi ogni classe ha un attributo class che rappresenta un oggetto class che descrive l'oggetto scusate il giro di parole ma purtroppo quando si lavora a livello meta uso il linguaggio stesso per descrivere i costrutti del linguaggio quindi ci si incasina praticamente non dobbiamo complicarci la vita mentalmente semplicemente dobbiamo ricordarci che in questo costruttore dobbiamo mettere il nome della classe arco punto class punto e una volta che abbiamo creato questo grafo lo popoliamo aggiungiamo vertici aggiungiamo archi ma usiamo i metodi che abbiamo visto prima volendo per debuggare la classe grafo definisce un metodo toString decente essenzialmente che stampa il grafo stampando prima l'elenco dei vertici poi l'elenco degli archi ovviamente se siamo bravi abbiamo messo dentro il vertice un toString decente perché altrimenti mi stamperà l'indirizzo del vertice quindi nella classe vertice ci devo mettere le scotch ci devo mettere liquors ma ci devo anche mettere toString umano per permettermi di vedere cosa succede quindi una cosa di questo genere sarà nel caso in cui io abbia definito un grafo simple graph di string usando string come tipo vertice default edge punto class nel costruttore allora vorrà dire che l'add vertex si aspetta un argomento di tipo string string come classe di libreria ha ben definito liquors ovviamente non ha problemi e quindi posso aggiungere vertici aggiungere archi passando come primo e secondo parametro degli oggetti che siano equal a qualcuno dei vertici che ho inserito devono essere oggetti contenuti che rappresentano vertici contenuti all'interno del grafo e una volta che ho fatto il grafo posso usare gli altri metodi quelli che abbiamo commentato prima per andare a interrogarlo a vedere cosa c'è dentro partire da un verso e trovare quelli vicini e così via queste funzioni sono le funzioni di base quella dell'interfaccia graph per lavorare col grafo in realtà ci sono tanti compiti che tendono a essere un pochino ripetitivi cioè immaginiamo di raggiungere un arco a un grafo pesato dobbiamo chiamare due metodi add edge a cui passo i due vertici mi istituisce l'oggetto E e poi dopo subito dopo devo chiamare set edge weight a cui passo questo stesso oggetto E e il peso non ho un metodo unico poiché questo metodo ad edge deve funzionare sia per i grafi pesati che non pesati non ho un metodo unico per raggiungere un arco e un peso altro esempio dato un vertice voglio trovare se c'è un vertice qual è il vertice a lui adiacente beh niente è difficile prendo un vertice gli chiedo ad esempio il get edges of di V quindi dato un vertice V mi dà l'insieme degli archi e poi itero su questi archi ma per ogni arco dovrò andarmi a chiedere qual è il vertice dall'altra parte e come faccio a sapere quale è il vertice dell'altra parte vabbè get edge target però attenzione perché l'arco potrebbe essere disegnato da me verso l'altro oppure dall'altro verso me quindi il mio vertice V potrebbe essere il source oppure il target dell'arco quindi devo chiedermi allora se io sono il source vado a l'altro vertice sarà il target se io sono il target l'altro vertice sarà il source e devo fare una micro if cosette antipatiche perché insomma dettagli di programmazione che mi distraggono per operazioni semplici ripetitive normali allora chi ha fatto questa libreria ovviamente l'ha capito l'ha riconosciuto e ci ha fatto una classe di metodi di utilità la classe si chiama graphs con la s in questa classe cosa c'è? beh sono tutti i metodi che servono di più ad esempio c'è l'add edge in cui passo il source il target e il peso e quindi se voglio aggiungere un arco con un peso in una chiamata sola la faccio così questa classe graphs non è una sottoclasse di graph o altro è una classe che contiene metodi statici quindi non deve essere istanziata non devo fare new di graphs non serve solo metodi statici e quindi chiamerò direttamente graphs punto ad edge poi chi ha quel metodo metodo statico lui non sa qual è il grafo su cui sto lavorando e infatti tutti questi metodi come primo parametro hanno un grafo g g g g g a volte si chiamano g a volte si chiamano graf io qui ho usato esattamente i stessi nomi che sono usati sul javadoc io ho cercato di mettere grossomodo in ordine di utilità la più utile aggiungi un arco oppure ad esempio add all vertices cioè io ho una collection con tutti i vertici immagino arriva dal DAO dal database l'elenco delle città queste devono essere aggiunte come vertici e beh allora devo fare un ciclo sul collection per aggiungere i vertici 1 a 1 add all vertices fa già il ciclo lei quindi gli passo una collection di vertici e me li aggiunge tutti al grafo non è magia semplicemente risparmiamo due righe di codice il neighbor list of l'esempio che dicevamo prima dato un vertice mi dà la lista dei vertici adiacenti non degli archi ma direttamente dei vertici così non devo poi fare il passaggio in più dato l'arco qual è il vertice dall'altra parte opposto e così come predecessori e successori oppure altra cosa carina get opposite vertex dato un vertice e un arco quest'arco ovviamente dovrà incidere su questo vertice qual è l'altro vertice dall'altra parte dell'arco questi metodi li usiamo spesso essenzialmente quando dobbiamo navigare un grafo gli altri sotto sono un pochino meno utili comunque se vi interessa chiaramente nel javadoc c'è la spiegazione di tutti quindi c'è questa classe grass se mi viene assoluto sotto forma di slide quello che abbiamo commentato sul diagramma quindi proviamo a fare un piccolo progettino da 5 minuti solo per creare un grafo e vedere come poi domani invece faremo qualcosa di più interessante allora creiamo un nuovo progetto va bene anche un progetto java semplice prova grafi dentro cui possiamo creare una nuova classe facciamo la prova col suo main allora in questo progetto ovviamente dobbiamo se vogliamo usare la biblioteca grafi dobbiamo aggiungerla quindi dobbiamo crearci una nostra cartella chiamiamola lib nella quale copiamo ce l'ho ancora da qualche parte qua copiamo jgraphd core 110.jar ah si perché quella non ce la fa allora aspetta ok ho aggiunto questo file all'interno del progetto ovviamente semplicemente così ho salvato il jar e basta devo aggiungerlo al cammino di compilazione ok reference library adesso è la stessa operazione che facciamo con la libreria con il mysql connector niente più ne meno e qui vedete che se apriamo questa libreria mi dà tutte i package e tutte le classi al loro interno questo punto lo possiamo usare possiamo provare a creare ad esempio questo grafo che c'è qui nelle slide un grafo oppure un pezzettino di esso è un cos'è questo grafo allora innanzitutto qual è il tipo torniamo a quelle domandine che c'è sulle slide prima domanda qual è il tipo di vertice stringa perché li ho chiamati r, s, t, u, v, d, doppio eccetera secondo qual è il tipo di grafo allora è un grafo orientato non orientato non pesato semplice senza cappi senza archi multipli quindi in questo caso la classe che fa il caso nostro se vogliamo ripetere l'esercizio è grafo non orientato quindi teniamo in mente la metà sinistra non pesato la prima colonna semplice la prima riga e quindi ci rimane questa classe simple graph è lei quindi torniamo su eclipse e creiamo un oggetto di tipo graph il cui vertice è una stringa il cui arco questo graph prendiamolo ovviamente da org.jgraph e cui arco è un grafo non orientato quindi il tipo dell'arco sarà il default edge e questa è la variabile generica che associamo a un oggetto specifico creato che è il simple graph abbiamo scelto che ci serve abbiamo capito che ci serve un simple graph di cui dobbiamo solamente ripetere che la classe che rappresenta gli archi è il default edge punto class e questo punto lo possiamo usare graph normalmente prima aggiungiamo i vertici e vedete che poiché ho definito il grafo con i vertici di tipo string il metodo ad vertex si aspetta di ricevere un parametro di tipo string quindi è il generis al lavoro questo e quindi il primo vertice sarà vrsw facciamo vrsw v immaginate questa roba qua che sarà sicuramente un loop su dei dati che arrivano dal database ho aggiunto quattro vertici e poi aggiungo i collegamenti il collegamento tra v ed r add edge tra v v minuscolo se non l'equals mi si grida ed r e analogamente tra rs e svw qui ho usato questo ordine da rs e non quello contrario perché si è indifferente perché è un grafo non riattato ecco se vogliamo avere una prima impressione di ciò che sta succedendo proviamo a stampare graph e vediamo cosa esce fuori questa è la rappresentazione che mi da la print line la to string del grafo quindi parentesi tonde esterne vertici virgola grafi virgola archi i vertici sono questi e gli archi sono questi quindi i vertici sono v r s w qui è chiamato il to string della string quindi è la stringa stessa e qui c'è una lista di archi ciascun arco è una coppia non ordinata quindi vedete le parentesi graffe di vertici se il grafo fosse un grafo orientato al posto di queste parentesi graffe vedremo delle parentesi tonde che ci ricordano che l'orientamento conta allora domani impareremo a fare qualcosa di un pochino più utile che non stampare la struttura del grafo e a visitare soprattutto trovare dato un vertice trovare i suoi vicini trovare gli altri vertici del grafo adesso lasciamo l'aula a chi viene dopo di noi